Ciao a tutti ragazzi e bevuti in questo nuovissimo e ultimissimo episodio, non di Forkrat, ma dello speciale di Forkrat, appunto, che si è diviso in tutti i canali, infatti nei loro canali, in quello di Eren, Emerald, Tearless e Tech, sono già usciti tutti gli episodi di questa specie di miniserie speciale, perché abbiamo appunto fatto un anno di Forkrat. Detto questo, cominciamo e spieghiamo le regole. Allora ragazzi, metto il timer. Vai Eren! Allora, 3, 2, 1, via! Ragazzi, io non mi ricordo dove troppavo, comunque, bisogna anche dire le regole ragazzi, perché sì, ci sono delle regole effettivamente, perché questo Forkrat qui, questi episodi qui, sono fatti a punteggi, come funzionano questi punteggi? A me no, a me no. Quello che vince, ovvero che arriva primo, fa 5 punti, il secondo fa 3 punti, il terzo 2 punti, il quarto 1 punto e il quinto 0 punti. Ci sarà anche un bonus speciale per chi fa le kill, sarà semplicemente 1 punto ogni kill. Detto questo, ragazzi, ovviamente, negli altri video abbiamo già fatto i punteggi, noi li andremo a spoilerare, quindi se volete fare il calcolo, andateli a vedere, assolutamente. E niente, che vinca il più lezzo. La metto così, ragazzi. No, perché devi vincere per forza te, scusa? Perché chi l'ha detto che sono io il più lezzo, scusa? Beh, è abbastanza ovvio, cioè, tu sei il lezzo per l'antonomasia. Esatto, Tano. Scusami, non so cosa significa antonomasia. Antonomasia. No, in verità posso dire che è un termine femminile. No, raga, sto scherzando, penso che voglio dire qualcosa tipo pretradizione, qualcosa di simile. No, no, semplicemente quando utilizzi il nome della persona per descrivere un ruolo, una posizione. Quindi il cicerone. Non so se suonare. Ma perché subito a pensare male, raga? Per chi mi avete preso? Per chi mi avete preso? Per il lezzo. No. Cosa trovai? Guarda, sei fortunato, appunto, che non ci si può sparare nei primi dieci minuti, perché sennò sarai subito venuto da te a killarti male, uomo. Barret è esplosivo. E, Metano, perché non ci si può... Tanto ormai l'avrà assistito su tutti quanti i video, quindi non ho spiegato neanche. Perché la partita deve essere più equilibrata. Se uno scende e non trova nulla, almeno non crepa subito. Ovvero Eren. Perché si sa che io... Oh yes, ho preso mezzo quale di danno da casa, raga. Io ed Eren vi sticciamo sempre e ci spariamo subito. Non è vero, Tano. Per me tu sei una persona preziosa. Boh, raga, io trovo sempre pistole. Non lo so. Raga, io voglio spoilerare di un'arma che ho. Dillo, dillo. Poi fate voi. L96. Ragazzi, te che sta facendo il pavone, io ve lo dico... In che senso il pavone? Ehi, leggendario. Te la tiro un po' troppo. Ho detto solo che arma avevo. E voi sapete che con quest'arma avete avuto più volte in questo anno. Vedi se trovo il mio parret come te lo paro in testa. E' come se io dovessi uccidere col Barrett e come dire prendo una bomba e uccido una mosca oppure io ho uno spillo. Eh, raga, è molto più difficile la mia arma. Perché non ho capito il senso. Neanche io ho capito. È che... Barrett! Vuoi vincere facile, no? Ho trovato... No, no, una volta per un discorso stupidissimo, per spiegare una cosa stupidissima, Tirless si mise a fare, tipo, i discorsi sulla Russia, i carri armati, robe simili. Cosa? Sì, sì, uomo. Perché tu li ascolti i discorsi di Tiar? Io di solito dico... Ogni tanto sì. Scusa, non ti ho ascoltato. Certe volte li... Da vero. Non puoi toccarti? Guardi, mamma mia. Sappi che ho il Barrett, ci vediamo sul campo di battaglia, cavoli, cioè, davvero ti devasto. No, non scherzo. È vero, no, no. Scusate, che vinci sicuramente tu, il duello, non scherziamo neanche. Ma io non credo nella superstizione. No, raga, ho preso quattro cuore di danno. Stai scherzando, uomo? No, raga, del danno da caduta. Qua ci muoio di danno da caduta, raga. Guarda, Eme si è già preso a posto sotto la montagna. No, raga, ho trovato la katana. Vabbè, allora, cara. Beh, è nata su questa mappa, comunque, la katana, eh? Sì, e io ho avuto brutte esperienze, soprattutto l'ultima volta che ho fatto sta mappa. Anch'io sono stato scatanato più volte. Sì, in un buco, però, ero. Che bello. Ebbè, buon per te. Cioè, che non c'entra da anni in questo TS in un buco. Sì, sì, sì. Oh, yes, quanto mi piace trovare le cose leggendarie. Io sono già due leggendarie. No, ti lo sai che una... Ricordati che chi si bloda si imbroda. Ah, no, questa è una leggenda. Hai ragione. No, ragazzi, cioè... Non scherziamo neanche. Leggendario, sì, ma... È troppo... È troppo forte la concorrenza, quindi... Oh, che cavolo è che spara? Porri, mi è scivolato il dito. Eh, guarda che sei accanto a me. Te lo sottotiro, quasi. No, ragazzi, ho due katane. Ma che stiamo scherzando? E fai la doppia katana. Eh, il problema è che la katana è pure leggendaria e lui ne ha trovato i due. Pensa che il loot che si è bruciato. Esatto. Potevi prendere qualcosa di bello. Mi, ragazzi. Non è più leggendario la katana. Non è più leggendario la katana. Non è più leggendario la katana. Poi un L192. Porca troia. Ma miseria. Raga, io non so se ci dire il canale. Non sa che lo farò dopo questa battuta. Ditilo. È una cosa che non dicevo da anni. Da anni? È vero, uomo. Ma non da anni, ma che cavolo. Ma non è vero, non lo dico spesso. Sì, ma dire da anni, insomma. Mi è partito un flashback di Tech, tipo, eh, ragazzi, basta, anche nel canale. Sì, perché io e Tech facciamo il percorso inverso. Quindi poi, a metà loot, top. L'altra metà, non ci sono i lucky block. Ma anch'io sto camminando nei residui di altra gente. Non è che facciamo molto. Ma io penso che in questa mappa non ho mai fatto... No, no, no. Emerald. Porca... Emerald, tu sei un lezzo. Mi ha lasciato una grata addosso, ma era la fumogena. Che impame. Ma sì. Ma, uomo, mi ha aiutato di granata. Allora, stava per essere squalificato. Perché mi ha aiutato comunque di granata. Se mi facciamo mezzo cuore... Tu ti hai fatto di granata? Sì, sì. Io, a me è arrivato il colpo. Mi ha aiutato di granata. Che legalamente ti hai rimanato in testa, tipo. Ma, però, addosso, ma... Non ti ha fatto danno. Non mi ha fatto danno, quindi non è ancora squalificato, eh, Emerald. Però diciamo che... Saresti stato... Saresti stato... Richiamo, eh, richiamo questo. È ammunito. Ammunito, ma in questa partita avevi 0 punti nonostante tutto. Emerald Per questa tua bravata Se la stava rischiando Però no dai non mi ha fatto danno quindi No è stata una ragazzata però sappiamo che Ma in tutto questo ho una domanda Che farò dopo Ho una domanda che non farò perché non voglio creare casino Ok grazie Apprezziamo Non ce ne sono stati fino adesso No no infatti Che prima vi siete presi a parole Quello è successo off camera Lascia perdere No no stai zitto Dobbiamo riprendere il discorso di prima Dobbiamo litigare di nuovo Allora Allora litighiamo allora Discussione più reale del 2019 Vabbè dai È comunque più vera di Il 90% dei video Many Fresh Presh Preshure plate Non mi ricordo il nome Many Pressure plate Questo non lo voglio Chris è il manager di Manny Yeah E intendevo il Passa con tonno Ah ok No no Ah bello figo Io Chris lo amo ragazzi È un figo assurdo Pieno di soldi Ok Eh sì Tutto il contrario Ciao Tearless No raga L'altra catana ho trovato Ma stiamo scherzando Ci diamo un bacino Basta tanate Allora la sua cosa potrei fare Effettivamente potrei rincorrerti Fino a che non sono al timer Ti sparo prima Raga ma non sono generati loot qua Dai Dai me ne vado Me ne vado Tanno vorrei darti un pugnetto Ma non posso farlo Ah fallo fallo Ti lascio un regalo Non lo voglio Me ne vado No ti lascio un regalo Voglio farti un regalo Esatto voglio farti un regalo Ragazzi ci vuole bug abusare Tearless Ne sono scuro No tieni qua Tieni Tanno ti regalo i miei blocchi Davvero? Io ti regalo i miei No Ah ma ne avete più Grande regalo Sì infatti Ma perché dovete fare Che questa voce Eren che sta Che vuole farmi bagnare le mutandine Troppo tardi per me No invece è successo Quando ho fatto l'intro In verità Ciao Eren Ma siamo tutti qua Perché stringi Questo giorno di metà Settembre Ma cos'è sta cosa? Cioè è impazzito E ho dice così Cosa ti devo dire Pensate che fra un po' Tanno le ninna nanne Che carino Ho già incontrato tutti Praticamente tranne i tech E non abbiamo ancora cominciato Io boh Pensate le ninna nanne di Eren Saranno bellissime Oh no Dormi 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 Devo andare a registrare Muoviti E lì partiranno C'è già stato un papà su youtube Che Non potete sparare Raga Sono io che non so Usare i tasti C'è già stato un papà su youtube Che disse Se non stai zitto Ti ammazzo Ma non sarò io Davvero? Sì No dai Barabarà barà Barabarà Parabarà Parabarà Vabbè Allora Ho pistole ho catane E sei proprio un pistola Figa Figa Cosa è se sto scavando Ma ho bisogno di blocchi Dopo aver regalato i miei Ameritano Ha bisogno di blocchi Ma me ne hai dati 10 Però le ho pure buttati Per terra Ma Ehi Stronzo Erano sporchi di sperma No Cosa che ho sentito Potrebbe essere vera Ma più probabile da parte mia Eh si Tano Già Purtroppo sappiamo tutti Qual è la tua situazione attuale Succede Perché lascio queste armi Che possono essermi utili In caso di combattimento prolungato Perché mi arriveranno Barrettata nel capo Bravo Aaron Giusto Io sto buggando col glider E sto salendo Questo bugga La conclusione di sta roba 10 secondi In teoria 20 secondi Insomma Neanch'io ne ho preso tantissimo Se sei sincero Devo fare affidamento Ehi ragazzi Ok Stasera Attiva entità È il momento della Perfetto Allora dove siete Cari ragazzuoli Cari ragazzuoli O a kill di easy Cari ragazzuoli Ok la safe sta stringendo La safe dai Vieni qua Ma safe dai Vieni qua Ma che bello Mamma mia Ragazzi sono le peggio imitazioni Di un accento romagnolo Che abbia mai sentito È vero Eppure io In un certo senso Ho queste origini Si scoprono gli altarini Sto seguendo da mezz'oretta A me Guarda come si preoccupa subito No E me Invece si Da me Io raga Cavolo Se mi segui veramente Di troppo la mia No no Effettivamente C'è qualcuno Che stava seguendo Qualcun altro Quello ve lo posso assicurare Però Ero io No Ho fatto un Ho fatto un Oh di predict Io perché l'ho preso sulla minimappa Al centro tra l'altro Quanto t'ho tolto Tante Tre cuori Avevo l'arma Non con la giusta T'ho visto che mi seguivi Marrano Ah l'L-L-Tec Ho visto all'inizio Chi si loda Tec Cosa Non so Niente Io L'Embrogia Quando hai preso l'L-96 Hai detto Eh raga Figa L'L-96 Eh me l'avete fatto usare Proprio Tec ha detto così Figa L'L-96 Figa Cioè Figa Devasto Figa Cavolo Raghi No Tiar Non puoi averlo fatto Porca miseria Ah Quanto stai in Tiar sta tryhardando Io sto tryhardando un foto Ragazzi Sta tryhardando un botto Raga Questo qua Sta tryhardando tantissimo Tiar Pit Prima dovuto prendere me Io neanche Vi vedo dove cazzo siete Mi arrivano i colpi In testa Top Meno male che ho Le cure Ti serviranno Sì ma allora Non ho visto Oh 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 Cazzo No Cazzo Fanculo Stavo dovevo ricaricare anch'io Oh mio dio Merda Raga Ti stavo caricando in faccia Ho vinto Eri l'ultimo Sì Oh mio dio Raga non si può essere ben armati E non vedere nessuno E venire uccisi alle spalle Sempre Non si fa Bro ti stavo seguendo Da mezz'ora Che rappresenta la forza Sei una merda Se eri uomo Dicevi sono dietro di te Combattiamo No non potevo perché Ho preso anche danno dalla safe Ed era un bordello Lì era veramente un bordello Tutte scuse uomo Tutte scuse Quindi ragazzotti Siamo riusciti a vincere la parità Vi andrò a elencare i punteggi Che mi ho fatto in questa partita E non in tutto il torneo Perché se volete fare i conti Vi dovete guardare tutti i video Leggissimi Anche degli altri E ne vale la pena Esatto Comunque in poche parole In questo video Io con la vittoria Mi sono fatto 5 punti Più 2 kill Sono 7 punti Il secondo Tearless Appunto ha fatto 5 punti Il terzo dovrebbe essere Emerald Con 2 punti Io sono il terzo Il terzo Eren Che ha fatto 2 punti Il quarto Chi è il quarto ragazzi Io Ok Emerald E poi Tech E io purtroppo Ho stato freddato da questo uomo qua Il nato male Che ha fatto 0 Detto questo ragazzotti Vi ricordo il loro canale in descrizione E quindi Ciao a tutti Bye 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 bye